ciao a tutti sono alessio 19 870 altro gameplay di assassin creed 4 black flag via allora nella parte precedente ho completato la missione adesso fanno un'altra acquista campana subacquea e dopo special di natale 2014 adesso adesso riparto con con assassin creed 4 black flag come ho detto uno special di natale se voglio fare l'assassin creed il rose che ce l'ho e l'uniti che devo comprarlo con la playstation 4 devo finire questo quindi assassin creed 4 lo devo finire il più possibile ci trovo quindi come ho detto quando quando compro la prestazione 4 comprerò l'altro assassin creed che ho detto uniti che non è per playstation 3 playstation 4 quell'altro ce l'ho per playstation 3 e manca quello qui andrò avanti con assassin creed 4 fino a quando non lo finisco e poi passo agli altri due e se fanno altre assassin credo di compro chi se ne frega una cosa non ho detto uno special di natale che era un po incasinato questo e quell'altro poi eventi scriverò qui sotto qualcosa c'è stato qua e altri cosa se mi ricordo di là questo qua so già cos'è boh se manca qualcosa di ora fine del video niente andiamo avanti con con il gioco devo acquistare la capa subacquea eccolo come avete notato ho un sacco di soldi ho acquistato gli oggetti fatto le missioni sono un sacco di cose munizioni potenziamenti allora no mamma mia potente ecco la campana subacquea costa ok adesso si che si ragiona la missioni diceva la campana subacquea ma ok no cosa faccio la ciurma aspetta questo non ce l'ho ma questo lo compro si forza di arpione anche questo anche questo deposito deposito arpione colazzo del barca remi mi manca questo è la forza di arpione vuoi soldi ce l'ho aspetto l'ho già fatto vendi gli oggetti che cosa no 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 l'ho già fatto prima di iniziare qua boh vediamo un po' dove cazzo devo andare non c'è un cazzo qua non c'è un cazzo via ok torniamo a Jack Do ecco la ecco la ecco la barca ecco la barca torna la nave ecco la barca e la missioni c'è questo ok vediamo che ho cambiato il timore eccolo qua ho fatto un sacco di acquisti come le armi questo ok incapidano il timore A più o meno mi piacciono i lapidi Cazzo è come qualcosa C'è un cazzo Ma eccolo Qua Il timone Ok salpa Devo andare là Quindi la campana subacquea Mi fa andare sott'acqua E' un mistero Eccola di là Ma Mettete al vento di direzione Che c'è E Io andai di là E non mi dà il coso E E che cazzo Medicina principale Medicina sommersa Sto cavolo E un sacco di acquisti ho fatto Ho cambiato il timone qua Nuove spade Insomma un sacco di acquisti E quindi Mettete al vento di direzione E che vi insabordi Ho prendere E che cazzo Colonn attaches Ma che cazzo Una mappa E sta mappa Che cazzo Aspetta aspetta Devo girare di là Guarda l'uomo Allora Là c'è l'isolotto Cazzo Siamo là di là Ok C'è un sacco di metri Ma che cazzo Non c'è neanche il viaggio rapido Che cazzo Non c'è neanche il viaggio rapido Oh Cos'è sta roba Ragazzi Ok Ok Eh l'ho salvato Che cazzo Cos'è è un isolotto Che cazzo è Devo fare missioni Cazzo Già 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 sto luogo qua Allora Allora Un'alto supestite E' un'alto supestite Abbiamo trovato Abbiamo trovato E le condizioni Eccolo 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 Non c'è niente Mamma mia Mamma mia Cosa fa paura Ecco inizia la missione Via Inizia E' una nave Filmato Barbaniera Il diavolo ti porti Taci Questa è una bellezza 32 cannoni Sono almeno 40 Hai fatto progressi E Non hai trovato Medicina qui Qui attorno Proprio niente Temo Ma ci sono dei riti Laggiù Che sono stati ripuliti Soltanto dai granchi E dai pesci E Ho un'occhiata Edward Edward Siete voi Signore Le indi occidentali Sono minuscole Starve Bonnet E' sorpresa Ritrovarvi qui Eccolo Ho incontrato il signor Taccio Alcuni mesi fa E gli ho chiesto Di prendermi sotto la sua ala Capite Per lui Devo darmi una svegliata E diventare Un vero pirata E Buona fortuna allora Chiunque diventa un pirata Sottolana di Barba Nera Ubriaco Allora Sì Sì Ah ecco Questa serve Ah ecco 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 la campana Una missione sott'acqua Oh L'hai detto Sai Giaccio Trova la medicina Ma che E' un barile Ma E' un barile Il barile Grandissimi I barili Allora E' lì E' un barile E' un barile Cazzo Le meduse Dove cazzo Ecco Scala Dove Lo scrigno Cazzo Eccolo Ok 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 Eccolo qua Ah mi dà aria Le meduse No 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 Affanculo La Toscina è di là Ah no 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 Rompono i coglioni No no Perfetto Non mi rompono i coglioni Le meduse Ah c'è un altro barile D'ossigeno Ma devo depredare l'altro scrigno Dove cazzo è? Non mi dire che è dentro là Ok Cazzo l'altro scrigno Ah qua cos'è? Non lo so Entriamo Cazzo l'altro scrigno Dove cazzo Eccolo Cazzo Sì Oh L'ho preso Trovo l'uscita No ho trovato le medicine Ok andiamo Eh ma non c'è un cazzo La corrente Ah la corrente Oh Oh cazzo Mancava sta corrente di merda Oh Che culo Amma mia Oh 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 Merda Oh I squali Oh Che miseria La lunga La lunga La lunga La campana Subacqua Subacqua Di barba nera Attorno Le superfici Un barile 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 Non mi becchi La scone La scone Ti dà Inchiazzi Di anche Le lite Per i tagli Squali Ok Allora Cazzo No 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 Che culo Dove l'altro Lo scrigno Porca miseria Allora Laccio Lo scrigno Eh Come cazzo Lo apro Si Si Squai Rompi I coglioni Ah Guarda Larga Per culo Uh Questo figlio è un bel bottino Un bel bottino Non fate attaccare gli squali Sto cazzo Aia Aaaaa Per culo Adesso Dai 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 Sì 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 Squai di merda Lo avete attaccato Tieni premuto Per tornare la nave E vai E vai Ce l'ho fatta Ecco Firmato E là Dove l'altro Ho trovato una cassa in mezzo a un branco di squali Devo che le visire al suo interno Sia guasto Maledizione Maledizione Diavolo Proveremo le medicine E ora Ricorda il perdono Dai Andiamoci piano Ma chi sei tu Ornigol Un pirata senza le palle Ti ha saltato Preferisce la cautela E i cannoni La cautela Non serve senza il carisma Se un uomo si comporta da sciocco Solo agli sciocchi lo seguono Ma se sembra un demonio Tutti gli obbediranno E tu saresti il demonio? Eh Uh Ma che è? Eh Ma che fa? Dai al nemico qualcosa da temere Un diavolo Dell'inferno Eh Uscito dall'incubo E tutti Cadranno i ginocchi Eh A implorare pietà Eh E perdono Addio Eh Miga Niente male Eh Cazzo Se trovi un modo discreto Di ottenere le medicine Avvertimi Altrimenti Facciamo a modo mio E come? Missione completata Eh Eh Questo si Ma cosa c'ha lì? C'ha le corde che fumano Cazzo Continua Adesso Missione completata Adesso La collezione Guarda C'è qualcosa sul fondo L'ho già visto C'è qualcosa sotto di lui L'ho già visto Allora La mappa Eh Sta mappa E che cacchio Qualcosa L'istituto principale L'avvocato del diavolo Andiamo qua Vi agirà Per dire meglio Ok Devo andare di là Aprite le vele Salite sulle sacchie Forza Aprite tutte le vele Alle trizze Sciogliete la vele Eh Devo andare là Eh Non ho messo il coso Il coso Il segno Come alleato Come alleato Ma che cazzo È un alleato Che cosa Devo potenziare la Jack Dove Prima di iniziare Questa missione Una presa Per i fondelli Porca miseria Dove è il coso Come potenzia la Jack Dove Ma Scusa Ma Dimmi proprio all'ultimo Le cose Porca miseria Allora Dove è il cazzo Non c'è un cazzo Guarda Allora Andiamo alla Cabina Secondo me Secondo me Nella prossima parte Lo farei Con la missione Allora Vediamo se posso comprare Qua Acquista Qua posso comprare Affanculo Spero Parle Di cannone Ma questo Sì Affanculo Questo no Anche questo Tanto Ho già fatto un sacco di acquisti Nel cannone No Cazzo Cosa c'entra Di barili Porca miseria Che sono grandissimi I barili Ma lo stimo Di carico Ma Cazzo Allora Mortaio No Queste che cazzo Mi servono Mi servono Mica Che costo enorme Un cannone No No Allora Questo No Questo Non se ne parla Palle Questo Allora Affanculo Portaio Eh Affanculo Non ho Eh Colpo potente Ma io Non so I barili Che cazzo Devo fare Allora Questo No E costa È Affanculo Quindi posso Prendere Un cazzo Stare Colpo potente E basta E basta E basta Non vai Allora Aspetto della Cerca Dove No 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 Si ho Questo Niente Niente Provenne Carico Affanculo Carico Solito Oh Cazzo Questo No No Stop Meglio Così Dai Ecco Potenziato A me La prossima Missione La prossima La prossima E vai Allora Vediamo un po Allora Mettiamo quella Cazzo Di roba Eccola Qua Missione Principale L'Avvocato Del Diavolo Allora Mi fermo Qui Dai Nella prossima Parte farò Questa Missione Quindi Meglio che Mi fermo Qua Boh Come ho detto All'inizio Quando l'ho Finito Assassin's Creed Quattro Farò Gli altri due Assassin's Creed Che ho detto Cioè Roge Che ce l'ho E un Inti che lo devo Comprarlo Ma lo comprerò Nel 2015 Con A Playstation 4 Gli altri giochi Li farò Cioè Resident Evil Revelation 1 Lo farò Devo riprendere Meta Ingear Rising Uncharted 2 Insomma Devo riprendere Questi Poi giochi di calcio Se li voglio fare Li faccio Cioè Come FIFA 15 E PES 15 Se li voglio fare Li faccio Se no Avanti con questi Allora Un po Così Ecco Niente Nella prossima parte Farò questa missione Insomma Se mi viene L'ho detto L'evento Qua Lo scrivo La sotto Special Che mette No Quello che dura 8 giorni L'altro Se mi viene Lo scrivo Se no Niente Se mi viene Se mi viene Lo scrivo Numero 2 Poi se mi viene in mente Lo scrivo Nella descrizione Dico io Non in questo video In quello special Di Natale Che ho fatto Prima E niente E niente Oh Una cosa è certa L'importante è aver finito Con il gioco Che ho detto Cioè DMC Devil May Cry Meno 1 L'ho finito E poi Come ho detto Nello special Se riesco a fare Con il 2015 Lo farò col panettone E lo spumante Se riesco a fare Lo special Se riesco Io ci provo Il panettone Lo faccio vedere Anche lo spumante Eh Vediamo che cosa Oh Mi fermo qui Allora Mettete mi piace Se volete commentare Commentate Se volete mettere preferiti Mettete i preferiti Iscrivetevi al mio canale E quindi Vi dico Che finisce qui Il gameplay Di Assassin's Creed 4 Black Flag Quindi un ciao Da Alessio19 870 Al prossimo gameplay Ok Allora 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 Grazie.